Nome? Magda. Nome? Valentina. Cognome? Ciacinati. Cognome? Albano. Da quanto tempo la conosci? Da dicembre. Da quanto tempo la conosci? Da dicembre. Dal 4 dicembre. La serata più divertente passata con lei? La festa della donna. La serata più divertente passata con lei? La festa della donna. La birichinata più grande fatta assieme? Asciugare i piatti. 5 minuti e arrivo. Chi è la ritardataria delle due? Io. Sei tu la ritardataria? Chi è la conquistatrice delle due? No, no, forse è lei. Chi è la più intelligente? Io. Tre aggettivi per descrivere lei? Bella, simpatica e intelligente. Solare, esuberante, intelligente. Il suo peggior difetto? La testardaggine. Il suo peggior difetto? Non lo conosco bene. Chi ha scritto il 5 maggio? Il 5 mamanzoni. Chi ha scritto la Divina Commedia? Dante. La prima guerra mondiale? La 1914. La scoperta dell'America? 1492. Chi ha scritto la passera solitaria? Il passero solitario. Il passero solitario. E di leopardi. Quando vieni a Bari Blu, qual è il primo negozio che visiti? Zara. Quando vieni a Bari Blu, il primo negozio che visiti? Prima donna. Consigli alla tua amica nella scelta? Eh, no. Decide da sé? Decide da sola? Sì, sì. La mamma. Se ti dico Bari Blu, a cosa pensi? Alla shopping. Se ti dico Bari Blu, a cosa pensi? Alla gente. Dimostrate un gesto d'affetto? Un saluto caloroso a Bari Blu? Ciao Bari Blu! Perché hai deciso di partecipare a questa intervista? Per divertirci. Perché hai deciso di partecipare a questa intervista? Per gioco. Che cosa pensate di ottenere con questa intervista? 500 euro. Grazie ragazze, buon pomeriggio. Grazie. Grazie.